What's up skaters sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video se sei nuovo benvenuto nel canale se ti va iscriviti perché oggi se ancora non sai farlo ti insegno a scegliere i track Prometto che la finirò presto con questi video però ci tengo a rispondere a tutte quelle domande che mi vengono fatte che sono essenziali effettivamente per chi sta scegliendo uno skateboard Quindi so che magari sono noiosi però li pubblichiamo 2-3 settimane siamo a posto torniamo con i vlog super fighi e ci siamo torniamo in carreggiato Comunque in parole spicce come scegliere i track? Prima dobbiamo sapere come sono fatti semplicemente base plant che è la parte sotto che sta a contatto con la tavola Panger la parte superiore quella che regge le ruote ok? Ecco i due fattori fondamentali quando si sceglie un track sono la larghezza e l'altezza e fino a qui non ci piove molto semplice Il problema arriva quando la larghezza in realtà si divide in due nel senso che abbiamo la larghezza dell'anger che è quella che sta tra le ruote e la larghezza dell'asse che arriva appunto da dado a dado E' molto fondamentale ma veramente tanto che questa larghezza la larghezza totale sia a filo quindi la stessa della tavola perché se no skateate male E' un casino è brutto vivete veramente una brutta esperienza di skateboarding Come sceglierlo? Semplicemente se la tavola è una 8.25 anche l'asse dovrà essere 8.25 Il problema arriva quando i brand hanno tutti unità di misure diverse quindi questi tensor ad esempio sono misurati in pollici E dei 5.5 vanno bene per una 8.25 Gli independent però sarebbero dei 144 su una 8.25 Per questo vi lascio una sottospecie di conversione alle taglie qui sotto in descrizione in modo tale che possiate un po' capire qual è il track che fa per voi a seconda della misura della tavola che prendete Quando si parla di altezza invece il discorso è molto più semplice Bassi, medi e alti Io sinceramente non consiglio i track bassi perché è vero che ti danno più stabilità in quanto sei molto più vicino al terreno Però hai molta meno agilità, molta meno manovrabilità, molto meno di spazio di manovra e rischi tantissimo il wheelbite Ovvero quando la ruota tocca la tavola e tu finisci faccia per terra Che vi assicuro che non fa piacere Ecco diciamo che per dei bambini che magari hanno tanta paura forse il track basso sì Non lo so, io non mi sento di consigliarlo Per quanto vi riguarda non mi piace Poi se schittate dei track bassi non c'è alcun tipo di problema Fate solo attenzione alle ruote perché a quel punto dovranno essere molto più piccole Parlando invece di track medi e alti avremo pregi difetti al contrario Quindi molto più spazio di manovra, molta più agilità, la curva sarà più stretta, riusciremo più a controllare la tavola Ma saremo meno stabili perché più alti dal suolo L'ultimo fattore è la durezza del track Quindi quanto sarà facile da piegare Questo è molto marginale perché lo scegliete voi Semplicemente andando a regolare il dado del kingpin Quindi stringendo saranno più duri, allentando saranno più morbidi Il mio consiglio è mettetevi lì 10 minuti e cercate di capire cosa preferite Un track più morbido che quindi vi dà molta più agilità Un track più duro che vi dà più stabilità, più rigidità, più reattività alla tavola ma meno agilità Quindi mi mettete lì 10 minuti, allentate, non mi piace Stringete, mi piace e vedete un po' voi Io personalmente ho sempre scrittato dei track abbastanza morbidi Però tutti i miei amici ad esempio tendono a scrittare dei track un po' più stretti Quindi un po' più duri Consigli per quanto riguarda brand, marche, stavolta ne abbiamo Independent al primo posto, i track del cuore li ho sempre scrittati Thunder e Tensor Queste secondo me sono le migliori marche che trovate sul mercato Poi se volete andare sul chip c'è anche Venture che però appunto è una marca chip Quindi dureranno molto meno Altro consiglio che vi do è di acquistare da Downtown Che è lo skate shop che ormai da qualche mese mi sponsorizza Con cui collaboro, insomma ormai sapete già La cosa bella è che acquistando lì mi supportate Quindi supportate il canale Supportate la scena italiana E vi prendete pure il 10% di sconto su tutto il catalogo Che è buttali via, cioè nel senso Il codice è PUSHING10 Vi lascio il link in descrizione per accedere al sito Io spero che questo video vi sia piaciuto Spero che vi sia servito a imparare a scegliere i vostri track Niente guys, peace, keep pushing